Nel tempo sarà realizzata, per quanto riguarda il nostro piccolo tratto, probabilmente una quarta corsia dinamica. È sempre più una quotidianità a trovare code sul passante o sull'A4 tra Venezia e Padova. Sembra un film già visto per decenni sulla tangenziale di Mestre e risolto definitivamente con il passante, ma prima in parte attenuato con l'utilizzo delle corsie di emergenza e l'aumento di piazzole di sosta per lo spostamento di veicoli fermi o incidentati. Oggi quella soluzione è definita corsia dinamica. Vuol dire utilizzare anche la corsia di emergenza nei momenti in cui ci sono eventi particolari, code che possono essere causate da incidente ma anche da grande traffico. CAV ha nel suo DNA la tecnologia e queste cose le ha già fatte sulla tangenziale di Mestre. Oggi le potrà fare ancora meglio perché abbiamo a disposizione una tecnologia che all'epoca la CAV dell'epoca assolutamente non aveva. Un progetto decisamente più economico e meno impattante rispetto ad un allargamento fisico dell'autostrada. Questo vorrebbe dire non avere la necessità di andare a costruire la quarta corsia della Brescia-Padova, di non andare ad occupare centinaia di ettari di terreno, di non andare a porre vincoli, di non andare a demolire 70 ponti. Mi capite che la situazione è alquanto difficile. Partendo dal presupposto che la quarta corsia nel veronese fisica vorrebbe dire spostare la tangenziale. Quindi mi vengono già i brividi solo a pensarci. Parliamo di un investimento di 4 miliardi e oltre per la fisica a fronte di 2 miliardi e mezzo per la dinamica.